Renzo Di Sabatino, commentiamo queste primarie del Partito Democratico. Intanto, al di là della vittoria, che per molti era scontata da Nicola Zingaretti, il buon afflusso di votanti in Regione Abruzzo, anche in provincia di Tera. Sì, è un dato assolutamente confortante perché questa volta, tra l'altro, gli organi di partito e i dirigenti si sono mossi meno rispetto anche ad altre primarie. Quindi questa grande affluenza in Italia, in Abruzzo e anche a Teramo è un segnale molto positivo e dimostra che il Partito Democratico c'è, è vivo e soprattutto è composto di questa gente che ancora una volta è venuta a sostenerci. Ovviamente sono stati eletti quattro delegati in provincia di Tera o adesso andranno nell'Assemblea Nazionale e praticamente entreranno nel direttivo? Entranno nell'Assemblea Nazionale, se non sbaglio dei quattro delegati, tre sono della linea Zingaretti e uno della linea Martina nell'Assemblea Nazionale che ovviamente poi proclamerà il segretario. È un luogo importante perché è un luogo in cui si prendono poi anche le grandi decisioni e anche poi di nomina della direzione nazionale. Lei ha detto che il Partito esiste ancora, anche in una nota, perché qualcuno anche recentemente aveva dichiarato anche a mezzo stampa, magari anche come Butadde, che il Partito era morto. Io dico sempre questo, è che sicuramente il Partito Democratico ha attraversato e attraverso una fase di difficoltà e sicuramente anche nelle competizioni elettorali non è autosufficiente e non è più neanche il centro di una coalizione più ampia. Dopodiché mi fa sorridere quando sento persone che rappresentano improbabili anche movimenti che vengono a dare lezioni a questo Partito. Il Partito Democratico ha la necessità di continuare ad allargarsi, ad includere e non ad escludere, con le forme che poi si deciderà con la nuova linea politica. Si va verso questo campo largo di cui si parla? Si va sicuramente in direzione di allargare i confini del Partito Democratico che oggi sono eccessivamente ristretti. Con quale forma, con quale contenitore e in che modo lo decideremo insieme nel Partito Democratico ma anche con tutti quelli che ci vorranno stare? Una cosa è certa, senza il Partito Democratico non si va da nessuna parte. Renzo Di Sabatino resterà la segreteria regionale. Le è stato chiesto recentemente in una riunione del direttivo provinciale di rimanere? Sì, ringrazio, ma non dipende dal direttivo provinciale. Io ho spiegato già la direzione regionale, l'ho spiegato dall'inizio, da chi ebbe dei mal di pancia quando fui indicato, che lo feci con grande spirito di servizio in ottica alle elezioni regionali che vedevano il Partito Democratico non in una situazione di difficoltà ma in una situazione di gravissima criticità. Credo di aver fatto un buon lavoro, non eccezionale, ma sicuramente un buon lavoro e ho detto che per me il mandato è concluso. Se devo proseguire ulteriormente è necessario che ci sia chiarezza di regole e anche di luoghi di decisione. Io so che ci sono le elezioni europee e amministrative importanti adesso a breve e però per poter guidare il partito anche in questa fase io ho bisogno di avere delle garanzie per quanto riguarda i miei poteri. Per quanto riguarda invece il partito regionale, il partito regionale pian piano adesso verificheremo tempi e modo per tornare all'elezione sia dei segretari provinciali che del segretario regionale anche qui attraverso il metodo delle primarie. Non so in che tempi e in che modi, io spero abbastanza presto.